La nostra comunità cittadina deve chiedere scusa ai poveri e in particolar modo ai migranti perché troppo abbiamo maltrattato, ci siamo troppo disinteressati di chi ha meno nella nostra città, troppa divisione c'è stata in questa città e invece a partire dal pranzo di Natale, che è una festa, dobbiamo costruire una cultura unitaria.